Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col Meteo. Sarà un inizio di settimana molto instabile e dinamico da nord a sud per effetto di infiltrazioni più fresche e instabili alle altissime quote che andranno a contrastare il gran caldo presente nei bassi strati su tutta la nostra penisola. Ne consegue quindi un inizio di settimana molto instabile, dominato dai temporali degli acquazzoni pomeriggiani e serali da nord a sud, specie sulle coste tirreniche, le aree interne del lato triatico e al nord. In Abruzzo, una giornata molto instabile, al mattino cielo poco nuvoloso, ma già dalle primissime ore del pomeriggio torneranno a svilupparsi i temporali molto intensi, diffusi sui settori interni, dalla conca aquilana all'alto sangro, all'alto vastese, fenomeni che poi si estenderanno anche verso le coste, portando anche qui degli acquazzoni, qualche tuono, qualche locale grandinata. I fenomeni più importanti riguarderanno i settori interni, dove non mancheranno anche locali, nobifragie, forti, grandinate. Entrosera, graduale cessazione dei fenomeni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni